Ma le canzoni, le canzoni cantate da reatini o da gente che viene... Simba, daccela ancora, senza di te io... Ascar, c'è un torone che ne crema Su Youtube e su Spotify Basta che premi play Cashmere Podcast Un podcast morbidissimo Benvenuti ad una nuova puntata di... Cashmere, un podcast morbidissimo Come stai Edo? Tutto bene? Bene, diciamo che l'ottavo re della mia città vorrei che stesse meglio, ti dico la verità Dici che purtroppo, vabbè ma magari sono una piccola crisi, si supererà Io ci credo, perché io non credo a queste brutte storie che sono state messe in giro dai media Secondo me, credo nella solidità della famiglia Non credo in queste illazioni vergognose che vanno a colpire una famiglia Che ha una importanza grande per la mia città, per l'Italia tutta e la nostra famiglia reale I giornalisti si devono sciacquare la bocca quando parlano dai lotti È chiaro? Va bene? Sono pienamente d'accordo, io ho scritto subito appena ho saputo alle amiche eterobasiche Dicendo ragazzi, ragazzi, date addosso a Hillary Blasi che è della Lazio Certo, invece loro pavide immediatamente No, no, hanno fatto il post, è da Lazio È da Lazio, sì Vabbè, è un po' di pepe, cioè nel senso ci sta, fa troppo ridere sui giornali E abbiamo scritto, Francesco si è reso conto di cose che prima non aveva capito Dopo vent'anni di relazione Tipo quali? Tipo che lei fa dei pietazzi, che cazzo ne so? Cioè, non lo so, di cosa è che non ti sei accorto dopo vent'anni? Non lo so, non lo so Del gatto che ci hanno a casa Esatto Lui finché giocava non lo vedeva Esatto, poi quando l'ha trovato lì ha detto, aspetta però, ma chi l'ha comprato? Però bello, bello il video che ha fatto Francesco Totti per dire che la situazione è tutta sotto controllo Faceva ridere che cambiava fondale ogni 15 secondi Sì, sì, era pazzesco Sì, se me l'ha fatto su green screen Però hanno scelto come fondo del green screen tipo la ex caserma a Viale Gottardo Non si sa Ma tutto andrà come deve andare Sembra un po' una storia, come dire, la principessa Sì, la storia della principessa Il guerriero Appunto, la nostra famiglia reale, è veramente un mito Pensa a te che paese siamo, se è la nostra famiglia reale Ma te posso dire? Meglio Totti di quell'altri Mi permetto di dire? Degli amici Savoia Beh, aspetta Se permetti, no? Attenzione Totti non sarebbe mai, non avrebbe mai fatto quel balletto strano Siamo con voi, siamo con voi Siamo con voi Arrivederci Arrivederci, ci vediamo poi Ci andiamo in Svizzera Oh, settembre è il momento top per andare in Porto Che cazzo è andato E ci siamo giocati Emanuele Filiberto come prossimo ospite Che invece era un bell'ospite di Casmia Lui ha vinto Sanremo o è arrivato secondo? No, quando mai ha vinto Sanremo Emanuele Filiberto? Ma no Ma era terzo tipo, eh? Ah, oddio, è vero È arrivato secondo È arrivato secondo, è vero Dietro Valerio Scano Dietro Valerio Scano Perché era l'anno di Valerio Scano Tutti luoghi in tutti i laghi E poi ci fu la canzone col tenore Luca Canonici Pupo e lui Italia Amore Mio Bagnolada dell'orchestra che protestò dicendo tipo Buttando gli spartiti come a dire Va bene che ci avete fatto pareggiare la guerra Va bene le figure che avete fatto Però pure vincere Sanremo noi diciamo no E se non ricordate mai ci fu anche un Perugate Diciamo che erano tanti voti C'erano dei fan in Perù, ne abbiamo già parlato A Lima, se tu gli fai sentire Italia Amore Mio Si buttano per terra e chiudono i negozi Giorno di ferie Ma vabbè, noi ovviamente abbiamo sempre un modo di raccontare Anche le notizie dell'attualità Se posso dire cartunesco Sì, è vero Sempre un po' È come se noi animassimo delle immagini Che sono ferme E noi con la nostra arte, con la comicità Gli diamo Fantasia Gli diamo movimento, dinamismo, cartone animato È esatto Infrusciare dei disegni Con il topolino che si muove in stop motion Perché in questa, perché abbiamo fatto questo collegamento? Perché nella quindicesima puntata La seconda stagione di Cashmere Si parlerà di un argomento che è all'ordine del giorno Tutti i giorni noi vogliamo sapere come è la situazione Dei cartoni animati Tema divisivo Attenzione Sì, 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 attenzione Non parlare di Fievel Come si chiama? Fievel Cosa del West Perché bambini che erano elementari si uccidevano Incazzati neri, esatto Il tuo rapporto con i cartoni Sei cresciuto ovviamente in regime di sudditanza psicologica Totale E io scrivo i miei pezzi E a un certo punto c'è sempre un riferimento alla Disney E ultimamente mi sto dicendo Luca, forse un pelo di meno Anche meno Perché sei grande Sembri Cioè è brutto a 34 anni continuare a dire Vi ricordate? Ma anche nel prossimo Peggio di così potresti essere soltanto un cosplayer Oh my god! What? Stiamo scherzando Benvenuti a Lucca Per il Lucca Comics Mamma mia Che evento particolare Benvenuti a Lucca Comics Quest'anno si crocefiggia Edoardo Ferrari Le parole forti sono state dette Sto scherzando Un saluto a tutti i cosplayer di Carmelo Avanzato Che ci ascoltano E che Un saluto un po' freddo il cosplayer Però perché Comunque io non sono Mi fanno proprio strano Persone che si Io stavo cercando di uscire da questa palude Vedo che invece hai proprio girato il timone E sei rientrato Voglio vedervi Leonardo, Raffaello, Michelangelo Vestito di tartaruga ninja Venirmi contro Oh non si dicono queste cose Oh dai Ma che mondo L'hai detto Guarda che io ho 45 anni Oh to 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 Questa spada è fatta in carta pesta Con la vinilica Gli ho messo 4 anni a farla Io faccio l'assicuratore Oh Ma sai mia moglie A casa che mi dice Oh ma hai capito Guarda una passione Oh Ecco qua che non siamo mai invitati È vero il mondo dei cosplay È un mondo meraviglioso Noi salutiamo i nostri amici È un mondo meraviglioso Quando si fa lo scambismo Negli hotel Esatto Della provincia di Brescia Quei posti lì Tu vai vestita da È così Allora salve Esatto Mia moglie è la sailor Io sono l'ispettore gadget Hop hop gadget cazzo Hop hop gadget cazzo Ma vedo che Anche la signorina È travestita da ispettore gadget Mi presento subito Faccio vedere il gadget pure a lei Esatto Penso che che cozzorone Doveva fare a Sanremo Era o questo O l'altro Del brasiliano Questa era un po' più E Insomma Certo un rapporto Io sono come tutti È come giusto che sia E quante volte me lo chiedo Rispetto a quello che succede oggi Con i bambini Cosa guardano Cosa non guardano Io sono figlio della Disney E dei cartoni animati Di Bim Bum Togliamoci il dente subito Il cartone preferito Della Disney di tutti Mio la spada nella roccia Ah Io sono un roccista Bello bellissimo Spada nella roccia O Robin Hood Bravissimo Vedi ho trovato una cosa In comune con Tahir Ragazzi Sorprendentemente Anche il mio è la spada nella roccia E Robin Hood E gli aristogatti C'è una linea sottile Che Usce la Balduina Islamabad E Catania Ci siamo ritrovati In questa linea Della linea Maginot Della linea Maginot Del cartone animato Cecilia Il re leone E la bella e la bestia Giustamente Eccoci qua Guarda qua Gli emotivi I romantici Vogliamo dire Le ultime romantiche Le ultime romantiche È vero o no? Cazzo A me è tantissimo Cioè più è clapiù Ti fa piangere Ma anche sorridere Ma soprattutto piangere È più Io tutt'oggi Se sento la canzone In cui Simba Ormai è cresciuto Insieme a Nala Dice Che in lui c'è un vero re Io Mi vieno a piangere È che però appunto Io col dramma Non ho mai avuto Tanta dimestichezza Ho sempre preferito Un po' Si ride ma si riflette Tipo la spalla e la rosa Io il dramma proprio Il dramma Il papà Le stelle Lo specchio Quando bella Rivede Rivede il papà a casa Carmelo avanzato Lui la lascia andare Guarda i cartoni classici In realtà nella mia testa Sono tutti mescolati E sono tutti lo stesso Non ho qui Nuno preferito Le animazioni valgono Wall-E ad esempio Wall-E è bellissimo Però è più recente È già Pixar Sì sì certo Questo è un grandissimo Argomento di chiacchiera Prima dei social Quando c'è una cena Paboni irlandese Con le Guinness Ragazzi ma il vostro cartone E si iniziano a cantare Le sigle di cartoni animati Del pomeriggio No pazzesco Addirittura si fanno Io non sono mai stato Ma è molto da matrimonio A un certo punto Mettere Kiss me Kiss me Di ciao Un matrimonio al quale Davvero Non vorrei essere invitato Neanche un minuto La sposa che balla Con un seno che le esce Ubriaca Sì che le esce Sempre voluto bene Sempre voluto Con gli amici Bori del Mario Oh me metti l'aus Come sa me metti l'aus Da magica Emi A donna mia No ragazzi Però Dio Quei momenti lì Al matrimonio Per carità Ognuno è libero di fare Quello che vuole A casa sua Scoperta dei cartoni animati Li hai scoperti Con le VHS Con le videocassettine O mettevi il canale Televisivo A TV No 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 Assolutamente VHS VHS Arrivava Natale Arrivava Natale Quando ero a casa di mia nonna Che era una pila infinita E quindi c'era sempre la cosa Di vederli E faceva ridere Perché invece Quando me li mettevano a casa Questa penso sia una cosa diffusa Te la mettevano Quando ti preparavi Per uscire E quindi tu vedevi Gli stessi primi 20 minuti Della cassetta Che tu puoi ripetere a memoria Poi passato il ventunesimo minuto Alle colonne d'Ercole Cioè quel film l'hai visto Una volta sola nella tua vita Bellissimo Questo mio padre Aveva lo stesso rapporto Con la messa E io anche Perché arrivavamo sempre 20 minuti in ritardo Ah ok Quindi quando andavo con mia zia Il Gloria Non lo sapevo Stavo lì Gloria a te Dici la canzone prima E poi dopo In realtà infatti Gloria È Gloria di Umberto Tozzi Quello che tu non hai mai scoperto Se fossi andato a messa Una volta nella vita Unico momento bello Sì Carmelo Ricordate negli anni 80 Giravano i VHS Con dei titoli Che ammiccavano Ed erano la brutta copia Di questi E qui Cecilia Può dire qualcosa Non c'era un'amica tua Che scusa aveva Chi era? Sì Non so se l'avevamo già detto È vero che l'avevamo già raccontato Ah forse sì Forse sì I famosi VHS Che c'era I VHS piratati E questa mia amica Continuava a dirmi Ogni volta Erre Leone è sopravvalutato Erre Leone è sopravvalutato Io mi incazzavo tantissimo Allora A 15 o 16 anni Andando al Terminillo Diciamo in queste gite simpatiche Al Terminillo E facevamo Chiuse a casa Tre giorni Tutte amiche Qualche sigaretta E qualche sigaretta Simba Daccela ancora Senza di te Askar Askar C'è un torrone che è una crema Ficcata E' bello Sì 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 Uscivano quelli che non erano nel filone Non uscivano al cinema Erano solo per Boh C'è un mercato Home video Home video Non difidare delle imitazioni Compra sempre e solo videocassette Videocassette Original Walt Disney Home video Con l'ologramma Esigete sempre Scusate invece L'inizio di ogni VHS con Euro Disney Tra l'altro Euro Disney Ha fatto Per farti soffrire Ha fatto 30 anni Il parco di Disney World Paris Che una volta si chiamava Euro Disney Ha fatto 30 anni in questi giorni E adesso l'hanno rilevato E ci prenderanno un Carrefour Ci siete mai stati? Io ci sono stata sì Anch'io No io Anche io a Euro Disney Io due volte ci sono stata Forse sì 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 Io ci sono stata a Euro Disney Io credo intorno ai 20 18 anni Sì sì A Parigi ci sono stata Io da piccolo a 7 anni 8 anni Bello bellissimo Stupendo Mia madre è grande appassionata Delle montagne russe Mio padre invece Gran Caghetta Tua madre è appassionata Delle montagne russe Mia madre ha questo lato Assurdo Da spericolare Strano Fosse per lei si metterebbe gli occhialoni Piloterebbe gli aerei Per fare Sempre sta appassionata di velocità Non lo so Che strano Guida Mamma guidi una merda Però Questa cosa qua Dovremmo far conoscere L'egola mia Non gli frega nulla Mi pare Il brivido Il brivido Pensa te Mia madre una volta Avevamo portato in un parco In Inghilterra C'era una montagna russa Io ero grande Avevo 10 anni Parte e va all'indietro Velocissimo E faccio Mamma non me l'hai detto È bellissimo Questa cosa Stranissimo E poi ci sono tornato a 20 anni In vacanza romantica Con un personaggio con cui abbiamo aperto la prima stagione La prima puntata della prima stagione Ricordo Una cosa divertente Avevamo affittato una Citroën C2 Tu parcheggiala a Euro Disney E dimenticati in che parcheggio hai messo una Citroën in Francia Divertente Molto divertente Sono saltati una mezz'oretta Eh la vera esperienza era quella Ecco e lì si chiamava The Parking Lot Era un'altra giostra che facevamo lì all'epoca No mio padre mi ha portato a tutte devo dire Mirabilandia Forse a Mirabilandia andai in gita con la scuola a un certo punto Sì perché andammo in Emilia Romagna E ci portarono Che bomba Ci portarono alle elementari a Mirabilandia Cioè io non so Tra l'altro con le suore C'erano queste suore che inseguivano questo Trenta ragazzini a Mirabilandia Una roba strana A Ravenna No no esatto A Ravenna Bello Gardaland anche fatta Mai stato No io invece grande frequentatrice di Gardaland Ma perché dei parenti Ah parenti Brianzo È certo giustamente Dalla Brianzo a Gardaland Esatto Vabbè un attimo Un'ora e mezza Ma invece chiudendo la cosa Parchi divertimento Poi torniamo sui cartoni Quello acquatico che c'è qua fuori Roma È un parco a tema Stando agli amici Pils Rumeno Cioè mi hanno sempre detto Se ti piace la Romania Vai Sì tu vai città di Vasco di Delfinul Sì tu vai Ti vai a buttare dentro il trampolino Malattie venere Come si chiama Non è Idromania Zomarin Perché c'è Idromania Zomarin Rainbow Magic Poi c'è Etnaland Poi c'è Etnaland Etnaland come funziona Etnaland Si attende l'eruzione Cioè la vera cosa Inizia a muoversi Una giossa Su un dondolo Si muovi così Quei lapilli che ti schizzano in testa No ma c'è un'attrazione Che si chiama tipo il vulcano Qualcosa Sì Dove tu entri in questo Tunnel Con i rumori Che per questo è l'Etna Secondo me ci sono tipo Dei galeotti Che spingono Tanto Tanto E' bellissimo Rifare un parco di divertimenti Riproponendo un'attrazione Che esiste Che già esiste E che può distruggere la città Soprattutto con fondi molto leciti Questo l'hai detto tu Questo l'hai detto tu Noi siamo per ogni tipo di imprenditoria Va bene? Sempre comunque Chiaro E no Tornando ai cartoni animati Che si aspettavano La VH e VHS Certo E poi però crescendo Ovviamente arrivano i cartoni Che scopri che ci sono delle ore del giorno In cui se tu schiacci Sei o cinque o quattro O come nel caso di Roma Trentuno Trentuno Trovi la cosa più bella del mondo I cartoni e merenda Esatto I cartoni e merenda I merenda facevi Guarda nei cartoni Mi mangiavo Tipo una tazza di Sirius Con il latte Al pomeriggio? Sì 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 Zuccheri e proteine Che mi obnubilavano il cervello E sì Perché c'era tutta Italia 1 Il pomeriggio Però io Super 3 Mi ricordo che era la sera Anche il pomeriggio faceva Era un palinzesto pomeridiano importante Era dopo i compiti Sì poi ovviamente sera Uno ricorda la sera Ma magari erano le 17 Le 11 e le 3 quarti Quando hai 7 anni ovviamente Chiaro Ah bellissimo Quel momento dell'autunno A Milano era peggio Che Roma All'improvviso va giù il buio E tu sei ancora in classe Alle 4 e mezza Mamma mia Terribile Arrivi a casa E è già finito Batman È già finito alle Benji E ti rimane solo da vedere Sailor Moon E io cosa faccio? Lo guardo E cambio Per sempre Io avevo la stessa cosa Di quando uscivo dal nuoto Che non c'era nulla di peggio Che uscire dal nuoto D'inverno a gennaio a Roma Freddissimo Tutto buio Una mamma che ti fa le capelli E la vuoi menare Perché te li tira Esatto Che ti fa male Con le mamme lì Quello terribile Vabbè Ricordi così Ricordi di infanzia E tutti quanti i vari cartoni giapponesi Che appunto abbiamo visto Tutti quanti importati O dal Berlusca O dal proprietario di Super 3 Che non so chi era Mi piace pensare che Sonia Avesse delle quote E comunque in realtà Fosse anche Avesse accesso ai contenuti editoriali Quindi lei ha scelto Di importare Yattaman Di importare Doraemon Eccetera eccetera Tu tipo Doraemon Non l'hai mai visto? No Lo ricordiamo Non l'ho mai visto Non riapriamo la polemica Non abbiamo parlato tante volte Io sono amico personale di Sonia Che saluto Ogni tanto ci sentiamo È vero È vero Ho dovuto flexare Ricordiamo il momento In cui l'abbiamo incontrato insieme Edoardo e Cecilia Si sciolgono E lei mi fa Togliendo la schiena Luca come stai? Sonia tutto bene? Sonia guarda Io non ho nessun problema Col fatto che tu scrivi a Luca Ravenna E non scrivi a me Non importa Non importa Sappi solo Che c'è un figlio Che ricorderà una mamma Un po' deludente Non dico altro Non dico altro Il vero Doraemon Era quello con i nomi Di Super 3 Guglielmo Guglielminetti Zippo Giangi Aspetta bravo Cosa mi stai ricordando? Aspetta un secondo No che hanno fatto la riedizione Con i nomi originali giapponesi Ma lasciali perdere quelli Pubblico non laziale È quella parte del podcast Adesso potete staccare Andare a farvi i fatti vostri Tornare a farci Andare a mangiare un frico Perché ci piace immaginarvi a voi Sul carso In friuli Che così ci ascoltate Delusi Dalla rumanità Da questi momenti Sprazi di rumanità Perdonateci Però dicevi La selezione dei cartoni Così come la traduzione Delle grandi opere Quando arrivano da altri paesi Cambia poi il modo di pensare Di chi ne fruisce Noi ci siamo sparati Tutti quei cazzi Di cartoni giapponesi Bellissimi Scelti Sai cosa Forse proprio da Silvio Berlusconi Che si metteva lì Fammi vedere questi cavalleri Da zodiaco Lottano per una bella fighetta A finale Quindi ci siamo Ah vedi la Lady Oscar Però Vedi Altro che culone inchiavabile Fammi star zitto Poi arrivava Marina Piccolissima Vieni qua Eh sì Eh sì E piace pensare Che ci fosse qualcuno Che li sceglieva Proprio personalmente Quelli Oli e Benji Poi questa cosa La cosa più democristiana Del mondo Che in Italia I cartoni Che avevano chiaramente Un protagonista All'est Tipo Capitan Tsubasa In Italia Capitan Tsubasa E Oli e Benji Ah è di Oli e Benji Che in Italia diventa Oli e Benji Con questo portiere E tu ti dici Oh ma Questa storia di Oli c'è Ma Benji Non si vede mai Perché Perché al bambino Gli deve piacere L'attaccante E il portiere Non escludiamo nessuno Non escludiamo nessuno Inclusiviti Va bene Mila e Shiro Shiro te l'hai mai visto? No Cioè all'inizio Poi non va a pare più Certo Esatto Però Però sti cazzi Ti cambiavano Tu rifacevi le scene Come ho detto nell'altra puntata Ho chiamato i miei pesci Come Nino e Carletto Per Nino e il principe di musica Carletto e ninja Ma Guarda Sì beh Mi cambiavano Mi cambiavano Io un certo Io volevo essere Nino il ninja Cioè era veramente Era Penso quanto pirla Dovevamo sembrare Ai nostri genitori Quando ci vedevano Che stavamo chiaramente Facendo Certo Certo Vabbè È lo stesso principio Di quando poi A 13 anni Esci dal cinema Che hai visto Mission Impossible E ti senti Tom Cruise E comunque Cioè io Nino era Volevo essere lui E mi dispiace Non esserlo diventato Tra l'altro È una grande delusione Della mia vita Magari Fandango Aprite le orecchie Magari biopic su Amici di Fandango Che sappiamo che ci ascoltate Però i cartoni animati Ci hanno anche fatto mangiare Gli spinaci Bravo Bravo E infatti Ah Bravo E qui parla il dietista E qui parla il dietista Carmelo Che ha basato La sua dieta Su braccio di ferro Ma a te Veramente ti è venuta voglia Di mangiare gli spinaci Per quello Beh penso di sì Anche gli hamburger di Poldo Però Ah è vero Chissà se c'erano comunque Le lobby dietro Secondo me ci stavano Le lobby degli spinaci Dietro a braccio di ferro Sicuramente c'è la lobby Di Poldo però Perché io penso Che non sia deposito Non arrivano soldi A chi l'ha disegnato Al sud Italia Ci sono 8000 panieri Che si chiamano Poldo Vabbè sì Ma quello come Vabbè ma quello è come È come È come il Bangla Via Le Tirreno Con la foto dei Beyoncé fuori Cioè nel senso Lì succede Eh ma si può fare Non si può fare So che la Disney È molto attenta Via Le Adriatico Chiedo scusa La Disney è super attenta a questo Diciamo che se Io e te Fossimo due insegnanti di teatro In una scuola elementare O media E si fa la recita di fine anno E si chiama che ne so Rapunzel Sì 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 E c'è il cartello E mandi gli inviti Con le foto Disney È possibile Lo so perché un'amica di mia mamma Lo faceva di lavoro Che arrivi una persona A chiedere Ah Rapunzel La Disney Bello Bene bene Lo state facendo da quanto? Da una settimana Bellissimo Bello Un giorno dopo 4 milioni di euro Allora o togliete tutto O noi vi facciamo a causa E questo fa la Disney E lo faceva un'amica di mia mamma E quindi lì è Disney Contro scuola elementare Maria Giovanna Però mi scusi Però i bambini Se riconoscono E non è che posso Dì un altro cartello Abbiate pazienza Io ho mi fia Che voleva tanto Essere Rapunzel Mocca Favamo parlare con l'avvocato vostro Che è questo Ebreo new yorkese Di 70 anni Senza Anima Senza nulla Poi vabbè Però ci sono tanti cartoni Di cui io per esempio Non ricordavo nulla Qui abbiamo uno straordinario elenco Cioè io tipo I tre caballeros Mai visto Ah ma stai parlando Della storia della Disney? Storia della Disney Perché comunque uno vabbè Quelli grossi li sai Ma Saludos amigos Saludos amigos Sì Io avevo il libro Sono sempre quelli con gli uccellini Sud americani Pappagallino Ah vedi quindi però già all'epoca facevano quello che si fa oggi con Encanto Erano comunque Da quello che so tutte mosse comunque politiche Certo Nel periodo in cui Cuba faceva le cose dell'embargo Le cose così Allora Disney sganciava l'uccellino cubano Ah negli anni 70 fecero Pinochet l'orsacchiotto simpatico Certo La baia dello sporcos Non l'hai mai vista No Quello non mi è mai capito di vederla La guerriglia frica Sono anche un metodo di propaganda i cartoni Eh beh sì certo Ma infatti giochiamo a questo gioco Come l'America tramite Disney avrebbe potuto raccontare Che ne so L'invasione del Vietnam Con questi topolini Eh secondo me sì Con Eh Freddy Freddy il pangolino coraggioso È vero è vero No proprio con un classico dico C'è questo tipo ratatouille però ambientato nel Vietnam Beh eh lì secondo me fai Sì fai veramente tipo Sai quei nomi Tran Gok Lan Il pangolino coraggioso Esatto E hai lui che c'è questo pangolino Che parte da noi Per andare verso Saigon Va tutto bene Loro vogliono l'indipendenza Lui ama Oshimin tantissimo Però arrivano gli americani Che dicono attenzione Il socialismo è un pochino troppo forte Qui in Asia Va bene E mandano al posto del pangolino Bassetti Qualche virologo Che poi gli darà la colpa di tutto E bello bello Questo è un bel gioco Che hanno fatto meglio di noi Appunto quelli che scrivevano Questi bei cartoni Mica quanti ne hanno fatti Abbiamo un elenco lunghi Eh ma ne hanno fatti tantissimi Però appunto Io ripeto alcuni Non lo so Se ti dico Bianca neve e sette nani Eh vabbè L'hai visto Vabbè cazzarola Il primo Ti piaceva? Medio Sì Beh sì No quello mi piaceva Quello mi piaceva Generalmente è uno dei cartoni Che fanno vedere I bambini più piccoli Perché ha pochi dialoghi È vero Rispetto agli altri Sapete di che anno Ha una paura Ha una paura Cioè la strega La strega La formazione della strega È bruttissima La vecchia strega comunista Perché no scherzo Non c'è nessun riferimento Alla sua Non è una cosa politica Sì Sacchiggiano La meravigliosa storia Di Collodi Per farne un blockbuster Mondiale Un film sul quale Si è scherzato poco Sulla questione Un papà si fa una sega Non ha battuta mai sentita Con una sega Ha avuto un figlio Ah forse non ho mai sentito Questa battuta A parte tutto Geppetto È falegname Con una sega Riesce a fare Questa battuta Non ha superato il rubicone Mi dispiace Non è mai penetrata Nel centro sud d'Italia Ragazzi Vi racconto una bella Quella del Geppetto La sapete? Così noi ci rive No in America raccontano Quell'altra Pinocchio Pinocchio Say another lie Con la fatina Che si scopre Vabbè Come in Shrek 2 Bellissimo Uscire dal pozzo E che è questo tank Non è mio Poi vabbè Poi si prosegue Con fantasia Fantasia Bello Ma impegnativo Molto impegnativo Quando la mamma Di un tuo amico Diceva Vi faccio vedere fantasia Zero dialoghi Sì sì È vero Infatti mi sa Che forse non l'ho mai finito Fantasia C'erano degli acidi In quel cartone Eh sì Appena appena Ma Walt Disney era Vabbè si era californiano Massone E Con una predilezione Per La multiculturalità In particolare L'amore per gli ebrei Sì 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 È vero è vero Questo notoriamente Però vabbè Io lo sapevo Però anche cosa si Esplicitava Questa sua Antisemitismo Beh penso proprio Non so Sicuramente qualcuno Ci può correggere Ma penso un po' di lobbismo Ah ok Un po' di amore Proprio conclamato In effetti Un po' come nei film di Giù d'Avata Non c'è neanche un nero Nei film di Walt Disney Non c'è neanche un ebreo Trovami un topolino ebreo Io so questa storia Però Non sono sicura al cento per cento Che l'attrice Che ha fatto Biancaneve Cioè che prestava la voce E poi le movenze Perché loro Ricalcavano Fu tipo Succube Di un contratto terrificante Da parte di Disney Che comprò tutti Cioè lei non poteva fare Nient'altro con quella voce Ce l'ha detto tipo Tu canti Biancaneve Però per i prossimi quindici anni Non potrei fare nessun film Dove canti E Biancaneve Divenne poi un caso Ovviamente mondiale E lei poveraccia Non ci ha fatto niente La Britney Spears Del 1926 C'erano gli hashtag Free Biancaneve Free White Snow E poi Scorrendo gli avanti Peter Pan Bellissimo Luca qui ti voglio Dumbo La scena della mamma Dumbo Forse è quella Quelli Lì mi fermo Quei limiti Però mi faceva troppo ridere Vedere i corvi Che dicevano Non si è mai visto Ho visto un cavallo Con i pantalon Ma non avevo mai visto Un elefante volare Ovviamente lo dicono Cantando con le parole giuste E non me lo ricordo bene Però ragazzi Le avventure di Each About Mr. Todd Io non ho mai visti questi Cioè 1949 Io spero che Chi ci sta ascoltando Stia facendo in macchina No Bellissimo Te lo ricordo Eh sì Direi di sì Taro nella pentola magica Quello mi sa che è un caldo Quello è un caldo Io non lo ricordo Non lo è C'è anche la cosa Del periodo Disney oscuro Cioè Dagli anni 70 Agli anni 80 La Disney cominciò a fare Una serie di buchi nell'acqua Perché si aprirono anche Le altre case di produzione Quindi questi cartoni Un po' oscuri Sono anche cartoni Ah ok Infatti vengono da quel periodo lì Infatti E poi si riprendono Nel 1970 Stiamo saltando dei capolavori Tipo l'abbiamo imparato prima Robin Hood Sì Aristocrati Figuriamo Libro della giungla Bellissimo Per dire Carica di 101 Vabbè troppi sarebbero E si riprendono Con la sirenetta Sirenetta Che è del 89 Pensate Che bomba la sirenetta Bellissimo Bello bello Molto bello Molto molto bello Ci mi è piaciuto tantissimo Secondo me Edo non l'ha mai visto No sì no L'ho visto In fondo al mare In fondo al mare Madonna C'è quel pezzo di Rocco Tanica Che rifai in fondo al mare Ma tu lo sai per questo Perché tu la sirenetta da bambino Non te la vedevi No era bello No no è bello Ma tu soffrivi l'assenza Di un personaggio forte Maschile Per immedesimarti Di un maschio bianco Eterosessuale Nei cartoni da Disney Già all'epoca Un pochino lo soffrivo Se non c'era Io dicevo Però in realtà Erano talmente divertenti I personaggi intorno E poi a me affascinava molto Ursula Come personaggio Canta Ah certo sì Canta Che poi è un po' L'amica è la giro Della Disney Se vogliamo Alice nel paese delle meraviglie Alice nel paese delle meraviglie Boring No non è vero Dai io tratto da Lewis Carroll No ragazzi Stratto Boring C'è a un certo punto Dici Allora C'è una storia C'è un papà Che ha abbandonato una bambina A me piaceva invece Mi piaceva perché era poi Era mattacchione Surreale Anche lì Acidi cose Ma hai capito Non ti piacevano i cartoni emotivi Non empatizzavi Era un bambino freddo Non empatizzavo No preferivo Il razziocinio Ma vi ricordate invece Quella questione Delle Delle cose demoniache Nei film della Disney Come no I messaggi subliminali I segnetti 666 666 La donna con le corna In Invese L'investica topo O Bianche Berni Nella terra dei canguri Quando si buttano con l'albatross C'è il palazzo E c'è in un palazzo C'è una donna con le corna Che si affaccia Tu dici Bianche Berni Il primo Sì Forse sì Quello con l'albatross Bellissimo Bellissimissimo Il primo era quello Con la bambina Con la bambina Nessuno vorrà una bambina così brutta Chi vorrebbe adottare Una bambina brutta come te Il film Questa battuta dice Nel 2022 la terrebbero? Ho la sensazione di no Ma perché Biancaneve I sette nani Lo terrebbero? Pensa che è bella storia Da raccontare oggi A dei bambini Biancaneve E i Come si dice in America Persone Dwarves Dwarves E' dispregiativo The midgets E' anche midgets E' i minions No è tipo E' i sette minions Wonderfully E' i sette minions E' i sette minions Bello Biancaneve Sì differentemente Alti Ma comunque Ma comunque They're so unique They're so wonderful You're so special Mi sa che anche baciare Una che sta a dormire Vabbè sì Qui si era creata Anche la fake news Pare che poi L'avessero tolto Dai cataloghi Poi però Non era vero Però hanno messo Su Disney Plus Davanti Un cartello Ogni tipo Film Per dire Questo film È stato fatto In questi anni Ed è tratto Da una storia Del 1400 Probabilmente Poi i bambini piccoli Non sanno leggere Quindi E' per i genitori Che dicono Che poi lo possono tradurre Ai loro figli Dicendo La vita è solo bellissima E non succederà Mai niente di brutto Niente Finchè starei qua Con me Ah il terzo Questa settimana Perché questo è quello Che alla fine succede Io penso È vero È vero Sì È il modo migliore Per tenere tuo figlio Per sempre Dentro casa Che sarà bellissimo Tutto stupendo Fantastico E a sto punto Si esce di cazzo C'è la strega di Bianca Re Esatto A sto punto Che cazzo devi fare Ansel e Gretel Che vengono messi Ad ingrassare Per diventare curvi Però vengono messi A ingrassare Per diventare curvi E accettarsi E accettarsi Perché alla fine La strega dice Così siete perfetti Siete belli Così siete belli Così come siete Veramente E il film finisce Perché lei non li vuole mangiare Non li vuole mangiare Finisce così E tutto va bene Esatto Anche nel Re Leone Il re Mufasa non muore Scivola Si fa un po' male Si fa male Ma impara Che anche se è rimasto Zop per tutta la vita Lui è unico Esatto E lui può sfruttare Con la sua unicità Pensai che il bordello Scrivere un cartone Oggi Difficilissimo Quella faccia Scherzo Non credo Ma c'è un pezzo Di loro che salgono Sul volo Sul volo Per le torre gemelle Non c'è quella parte lì Non me la ricordavo bene Iago Non riesco ad allungare le gambe Che posto hai prenotato Devi sempre prendere Quelli vicini All'uscita di sicurezza Può essere Aspetta c'è Gigi Broietti In Aladdin Julio Solenghi Fa Scar Un grandissimo Vittorio Gasman Fa Mufasa E Luca Ravenna Faceva Simba Perché io passavo Tutto il film A dire le battute Esattamente uguali Guardando Mi sentivi un po' Simba? Un po' Ero Simba Ero Simba Certo Io stavo tutto Timon Ah tu eri un timoniano Ah non Pumba No no Timon e poi c'è la coppia Però tu eri Tim C'erano gli amici Che volevo Tim Timon Carnevale Ci invitano Festa dei podcast Di tutta Italia Come ci travestiamo Bello Solo travestimenti Disney Innanzitutto c'è Francesco Costa Di Da Costa Costa Che è vestito benissimo Tipo fai conto Da Biancaneve Cioè così Ha questo suo fetish Carmelo Come ti vesti? Il gatto Come si chiama? Il gatto trasparente Di Alice Lo stregato Lo stregato Così posso anche Non andare alla festa E dire che ci sono stato E ci sta Ok No facciamo anche Altri protagonisti Di podcast Tipo Mia Ceran Da cosa si può Travestire? Mia Ceran Guarda A occhio Forse Sbaglio Da Cenerentola Da Cenerentola Da Cenerentola Quando è comoda Quando la scarpa è giusta Esatto Quando la scarpa è giusta Sta bene E Pablo Trincia Pablo Trincia Pablo Trincia Si veste dal proprietario Della carica De 101 Prendo Pongo Lo porto in strada Mancano sette minuti Alla cagata E i nostri amici Fedez e Luis? Fedez e Luis Sono i veri Pumba E Timon Della podcasteria italiana Sinceramente Poi c'è Poi c'è Tahir Che non ce lo dice Ma si veste Tahir che è il secondo Timon E anche lui fa Amore Una cosa terribile C'è alla festa Stasera una ragazza Che ha il mio stesso vestito Però è Luis E no Mi pensate invece Che si veste da Ariel Senza dirci nulla Parrucca lunga rossa Copri i seni E questa cosa Che dice Raga Gatemi una mano Non riesco a camminare E sembra Orietta Berti A quel Sanremo Quando c'era le cape sante Sulle tette E scusa Invece Va bene Le ragazze Da chi si vestono Alla festa dei podcast italiani Da cartone animato Magamago Perché è divertente La Magamago La Magamago è divertente Guarda Guarda Il mio lato romantico Mi direbbe Prenditi quel vestito Che volevi tanto Da bambina Che era quello di Belle Che non mi hanno mai preso E io volevo Quel vestito già Moto lo compro io A 35 anni Per Montesacro Ti mando in giro Per Montesacro Come una Si mette il vestito Però di una bambina Di 8 anni Sì Va al cert No aspetta però Il vestito di Aurora Quello che cambia colore Tu non ce l'avevi questa fissa Avete presente La fine della prima Certo Certo Che c'è blu Ah si Blu rosa Blu rosa Io stavo fino all'ultimo A vedere che colore Si interrompeva il film Perché volevo fosse azzurro Perché l'azzurro era il colore Non vi ricordate Mi ricordo Flora e Fauna Fanno il bordello Tu da cosa ti travestiresti? Io mi travestirei da Sermola Sicuramente Bello Allora io vengo Il cugino Sermola Sermola ha 40 anni Mi faccio un bel caschetto biondo Da Caio Sembro uno dei BTS Improvvisamente E tu fai lui Io faccio Caio Edoardo Non trovo il microfono Questa è la spada Perfettissimo Anche da Mago Merlino Mago Merlino Di Hercules Minchere Hercules Quando gli prese la roba Di Hercules Che spicca Sono i più belli Secondo me Bravo Bravo Il miglior costume Non protagonista Per dire agli amici Luca Comics Che in realtà Non è che sbagliare Siamo pronti Siamo pronti Invitateci Chiediamo scusa Veniamo vestiti Senti a un certo punto Si cresce La Disney Nel mio cuore Si è spezzata Con Pocahontas Si è vero C'ha deluso C'ha deluso Ma che cazzo Me ne frega Propriamente sono rimasto John Smith E vabbè Ma lì era l'America Che doveva chiedere scusa Ai nativi E vabbè Proprio brutto Canzoni brutte Non mi è piaciuto Ed io ho detto Basta Hercules Non l'ho mai visto Non mi è interessato Più nulla dopo Tarzan Zero Così cos'ha E ho iniziato a vedere Un altro tipo di Sono cresciuto No No Pixar Poi li ho recuperati Perché adesso Una parola su Toy Story Toy Story Il vero game changer Dell'animazione mondiale Lilo e Stitch Lilo e Stitch Volevi farmi una domanda Invece i maschietti C'era una principessa In particolare Che vi attraeva E quindi alle donne Al contrario Il principe Bella Bella No a me la bella addormentata Sono contento Ma a me ma rapava La bella addormentata Io sinceramente Ma ruspava La bella addormentata Nel bosco E gli psichiatri qui hanno materiale Mai mi sarei permesso Mai nella vita Di darle un bacio A quella donna Senza il suo volere Però Ma risultava No mai Altri cartoni Beh No Bello Piaceva molto Beh Erano pure Vabbè Pure a bianca a neve Le ragazze invece Il principe più attraente Qual era? Principe Filippo Della bella addormentata Nel bosco Stai dicendo Tipo Principe Filippo Di Lussemburgo Tipo che adesso C'è un regnante Ti piace un botto Così La bestia trasformata in uomo Mi piaceva E non piaceva a nessuno Mi piaceva Il nick car Madonna La bestia trasformata in uomo La bestia La bestia trasformata in uomo Ah ok Pensavo che Poi so io La bestia trasformata in uomo Chiaramente Ma appunto Si cambia A un certo punto Nella vita Si cambia Si cresce Entrano altri cartoni Nella tua vita E quei cartoni Hanno un nome solo E un colore Molto molto chiaro Esattamente Il giallo Ed sono i Simpsons I Simpsons forse è stata Una delle prime volte In cui ho visto una comicità In cui ho pensato Cioè mi sembrava di vedere Un gioco di prestigio Si poi di capirla Non è possibile Che esista una cosa così Tanto fica Che si può fare Che so questi che parlano In questo modo Ma tu le hai visti subito Dopo pranzo O ti ricordi Quando andava la pubblicità Su Mediaset Dicendo tipo Alle 9 di sera O alle 11 di sera Perché erano No 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 Io tornavo da scuola Subito le vedevi E vedevo più E vedevo E vedevo Simpsons No Vedevo No no ma ti spiego Perché vedevo Beautiful Edoardo Cosa stiamo diventando Edoardo Stai ancora guardando Beautiful Eh no no C'era un problema Che Beautiful Se non sbaglio Era su Canale 5 Ora di pranzo E invece poi c'era Su Italia 1 C'erano i Simpsons E io mi ricordo Che non avendo Il pollice opponibile No 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 Non riesco proprio A cambiare canale Signora Forrester Io Lei è tutto No 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 C'era la signora Che lavorava a casa nostra Che era filippina Che voleva vedere Beautiful E io invece volevo vedere A tutti i costi i Simpsons Allora io gli chiedo Ma perché vuoi vedere Beautiful Come lei diceva Perché è bellissimo Si sposano È tutto quanto rosa In Beautiful E io invece gli mettevo i Simpsons E c'era quindi Questa grande tensione All'inizio i Simpsons Venivano dati a mezzogiorno La domenica Su Canale 5 Ma va Vero 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 Minchia Nell'89 Quando era Perché poi i Simpsons Sono nati Fine 80 Penso abbiano un anno Più di noi 86 credo Ed è stata A parte i grandi autori Che hanno scritto Io ho scoperto Conan O'Brien Conan O'Brien Era scrittore Era fra gli autori Dei Simpsons Vabbè la migliore Comicità americana È passata per i Simpsons E quella veramente È una serie Che ha cambiato l'umorismo Di tutti noi Di tutto il mondo Di tutto il mondo E anche Fichissimo il fatto Che andasse su Fox C'è una rete Abbondantemente di destra Che però Forse Berlusconi Anche da lì Ha imparato la lezione Certo Prenditi in giro Perché Avvicina l'elettorato Bello Mio fratello Sabe a tutte le memorie La tua puntata preferita Sui Simpsons Dei Simpsons Di sempre Forse quella in cui Mr. Barnes Vuole oscurare il sole E quindi compra Quel pennone Gigantesco Per oscurare il sole E far pagare Oltre alla cosa Della centrale nucleare I cittadini di Di Springfield Anche quell'energia lì Quella è bellissima Quella è stupenda La prima parola Di Lisa Ah di Lisa Certo Di Lisa o di Maggie Mi pare Non so Mi ricordo il titolo Però è quella In cui alla fine Si dice la prima parola Che ha detto Lisa E alla fine Maggie dice Quell'altra Bella prima parola Non ricordo No Io ho dei flashback Vi ricordate quando Omer scopre il suo nome E va Omer J Omer J Che è semplicemente OJ Bellissimo No è tutto Era troppo bella Infatti è considerata Tipo la seconda serie Più bella della storia Dopo i sopranos Sì esatto No ma vi siete accorti Invece del doppiaggio Dei Simpson Italiano Che Tonino Accolla Buonanima Chiamava tutti i politici Di destra Tipo la russa Perché lui era Era di destra La meloni Non lo sapevo questo Oddio in effetti È vero Erano tutti i politici Di destra Forse anche Veltroni Ha fatto una puntata Beh dai Ci auguriamo Che Walter Abbia fatto il sindaco Quimby A un certo punto Eh dai Diciamo anche Che Littizzetto E Gattuso Hanno rovinato Due puntate Dei Simpson Non mi permetto È vero Littizzetto Si sparò Qualche episodio Grandissima Valeria Marini Nella parte Della tentatrice Di Omer Bellissima Bravo Che Omer Fino all'ultima Sta lì per cedere Invece resiste Torna da Marge Altra grande puntata Quella in cui Marge Sta per tradire Omer Se non lo tradisce Forse sono un po' sensibile Pure Omer Omer che ritrova la madre Omer che ritrova la madre Quando muore La moglie di Ned Flanders Cioè quella è una roba Devastante Con Omer che poi Gli fa il documentario Tutto il giorno Così per rimetterlo Dissolvenza Esatto E si vede Flanders che ha un cazzo Lunghissimo nella doccia Tutto quanto spisserato Incredibile E poi c'è la cosa lì Col montaggio Con Lisa che gli dice Ma non devi usare Sempre la dissolvenza stella Dissolvenza stella Ned Flanders Entra nella doccia Dissolvenza stella Che è come Sono montati Il 90% di video Su Youtube Dagli Youtuber Questo è esatto No scherzo Non è per niente E no Belli bellissimi Simpsons C'è un certo punto Crollano Cioè nel senso Crollano Ma è normale che sia Cazzo 40 stagioni Tipo mi pare 30 Saranno più di noi Saranno andati avanti No saranno andati avanti E poi comunque Erano tantissime Cioè mi ricordo Che tutto l'inverno C'erano i Simpsons Cioè io tornavo da scuola E c'erano i Simpsons E c'è un momento Non ci sono più Simpsons E quel tipo di comicità A un certo punto Però inizia ad essere Un po' più lenta Rispetto ad altri che arrivano E beh ma sì Per esempio Quando sono arrivati i Griffin Io non so Un sacco di gente Dice a me i Griffin Non mi facevano ridere Come fanno a farti ridere Griffin Tahir Come fanno a non farvi ridere ragazzi Cioè Sono belli A te non piacciono lì Cioè i Griffin Non mi fanno particolarmente ridere Io a un certo punto Io ho pensato Questo tipo di comicità È quello che io voglio Fare nella mia vita E può andare avanti all'infinito Perché era tutta una similitudine Sì sì All'infinito E assomigliano molto A dei monologhi di stand up Se ci pensi Cioè la linea della puntata Va dritta E tutto il tempo È come quella volta in cui È proprio come quando Poi scrivi uno sketch A me piace tantissimo È una cosa che tante persone Però sono snervate Però non vi capisco ragazzi C'erano delle perle Era tutto un paragone Con Dragon Ball per me Cioè Magari davano Dragon Ball Abbiamo cercato di evitarlo E poi davano i Simpson E te la collavi Cioè i Simpson Erano belli dopo Dragon Ball I Griffin Erano tipo Quella roba che dicevo Boh però non so i Simpson Però tu eri più piccolo Cioè tu eri Noi eravamo un po' più grandi Beh sì Però teoricamente Lui è più generazione Griffin Che generazione Simpson Volendo No ma i Simpson Sono andati avanti Per un sacco di anni Anche dopo che noi Abbiamo smesso di vederli Però ci si finanzia di dopo Tra sono meglio i Simpson E i Griffin Se dicevi Ah i Griffin sono meglio Vabbè sei radical chic Bastardo Vai vai Radical chic In questa scuola media A Trastevere Dove Tom Wolfe insegnava Tutorama per esempio Mi diceva moltissimo Molto bello Sai che io Un Futurama Non ci ho mai fatto click Mai fatto click Era bello Però è vero È il mio preferito Veramente? Sì Stavo per dire Vedi anche mio fratello Che nel 91 lo amava E poi è arrivato un signore Nel 64 A distruggere la mia tesi Che però Però in effetti È come i Griffin American Dead Che per esempio Non me ne ho mai fregato Un cazzo Mai visto proprio Boh non lo so Era così così Cioè più che altro Il Griffin era talmente Più divertente Che poi American Dead Non ti intrigava Tra l'altro noi Ovviamente parlando così Ci stiamo dimenticando Di tutti quei cartoni Di una volta Una piccola parentesi Il Carosello Ah il Carosello Il Calidero Ah come no Quei due della Bialetti Che si vendono del caffè Bravissimo Quelle robe lì Che oggi vengono condivise Nei gruppi Facebook Da persone Che se non sono no vax Ci vanno molto vicini Mamma mia Quelli che dicono Fregano noi Perché siamo una generazione Piuttosta Hai capito? Va bene Siamo quelli che Non sapete farvi lo speed Cresciuti col caro Cresciuti col carosello Cresciuti in modo sano Si pensa sempre Che quelli prima Di essere migliori Di essere sempre migliori Poi però ricordiamo anche Per esempio MTV Negli anni 90 Ci ha dato Bivis and Butted Certo Che è stato forse Doppiati da Elio e Faso Poi dopo da Biggio E Mandelli Grandissima idea formale Quella di avere Quei due personaggi assurdi Che guardano I video musicali Riprendono in giro Sì sì Perfetto Cosa somiglia Alle reaction di oggi È vero Alla Jalapas A quel modo di fare Una cornice Una scatola Dentro una scatola Ero molto divertente Però era un po' piccolo Sì sì Anche io Sì per apprezzarlo davvero Poi era veramente Una roba esotica Cioè avevi proprio L'impressione di stare vedendo Una cosa molto americana Molto più dei Simpson Che era più internazionale Parlava a tutti Però Biggio Sembattet Era veramente una roba di Proprio per l'America Per chi vedeva MTV in America In quegli anni Però era divertentissimo Tornano con un longometraggio A breve Sì 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 Doppiati da Elio e Faso Poi lo faceva ridere Sì sì Parolacce Libere Quello Oppure c'era Daria Daria Doppiato da Marina Massironi In Italia Ma va Non me lo ricordavo E ogni ragazza cinica Delle medie Diceva io sono come Daria Ah è vero Sì 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 E infatti anche Daria Ha cresciuto una generazione Di schellette Con i jeans neri È certo Jeans neri Frangettina Non so di cosa stai No no MTV a un certo punto Ha iniziato a fare No MTV lo so Però tipo Daria Mi hai visto No Daria era tipo Sei nato in quegli anni Quindi sei proprio nato No ma l'hai vista Daria sicuramente C'era quelli Io ricordo bene Il Golden Boy Che era questo Cartone giapponese Si vedeva un po' Le mammelle Si vedeva un pochino Eh ti faceva un po' Un regalo lì Ti faceva un regalo Il ram a mezzi Il ram a mezzo Ecco perché poi c'è invece Tutto quel Allora Vai Tu Diciamolo Lo vogliamo confessare Senza paura Confessiamolo A me non me ne è mai fregato un cazzo di Dragon Ball No Mai fregato un cazzo Non me ne frega niente Del Super Saiyan Quando i miei compagni al mare Dicevano andiamo a casa Che c'è la Dragon Ball Io dicevo Andate Esatto andate Rimango a leggere Flaubert in spiaggia Chiaro? Meno pretesi Che la gazzetta Che la gazzetta 12 anni Però Tu eri Difficile che a 12 anni Leggessimo Dam Bovary Tahir Qui forse Cambia podcast Cambia podcast La scuola era tipo Oh l'hai vista La punta ieri Sì sì Ma io sto da mia zia Fino alle 5 Tu non sei più amico nostro Vai a fanculo Perché comunque Dragon Ball è la cosa Che vi ha unito Di più Ma perché è quello Che poi ha dato vita A tutti quei cartoni Dove semenano E basta Pensate Che noi continui No Alt No 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 Prima ancora Ken Shiro E poi Dragon Tu sognavi di essere Ken Shiro un po' Sì anche io volevo Essere Ken Shiro Le volte in cui ho provato Tipo a rompere Una Capite Un'asse di legno E la filippina Sempre dice Ma signorina Edoardo Ma cosa sta facendo Perché Mi dava del lei Come fosse Una famiglia Vittoriana Io ho questa visione Della tua infanzia Comunque Non so se tu le avevi Da piccole Il camicio Con i merlettoni Anch'io ce le avevo Eravranno però Delle mie cugine Io le eri di tavola Ah e tu le eri di tavola Così Quindi c'era scritto Luisa Io ero una bella Silvia Una bella bimba Non lo so Era una moda Degli anni 90 Era una cosa più scomoda Per un bambino Ma non lo so Era una cosa degli anni 90 Non lo so Bretellati 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 Sì Bretellati Polacchini Super colletto così Enorme Con cui scolarci Tutte le torte Le cose E signorina Dardo Sì Salve buongiorno Richie Rich Potrei avere dei Cirios Appena tostati Richie Rich Beh grande film Sì grande Quello grande film L'ultimo grande McCauley Culkin Vero 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 No però Cos'è che stavamo dicendo Di No Di Dragon Ball Perché Kenshiro Sì e Dragon Ball Perché Kenshiro Poi ti metteva paura Kenshiro per esempio Quindi anche un po' C'era la cosa del Vedo non vedo La storia andava Non è che stavi sette ore A combattere con Freezer Un'estate a combattere con Freezer Quindi era bello per quello Poi Kenshiro Intanto aveva il tema Del doppio Molto chiaro Anche il cattivo Più cattivo Ha sempre una parte buona E positiva Tu ascolti Impari In camere Queste cose Gli altri due Oh potenza 9000 Potenza 150000 Minchia Minchia Che pallice Magimbu Le carte di Magimbu Le carte di Magimbu Ma che cazzo di Dragon Ball L'hai visto Quello dell'amica Di Cecilia Quello del piatto di Riettino Magimbu Che era un cartomante Era ma cos'è Stavano a vivere Le sfere del drago Vedi in bo Dicevi Carmelo Ho fatto uno stagio Un mese A pediatria Dell'Umberto Prima Con un collega Che mi parlava Solo di Dragon Ball E ha cominciato A pediatria Forse c'era qualche problema Infatti l'aneddoto Durante le pause Lui disegnava Dragon Ball E lo appendeva Insieme a quelli dei bambini E sono ancora lì Probabilmente I disegni Il tuo è una merda La cosa di Dragon Ball È che piaceva anche A persone grandi Mi ricordo gente Ragazzi Di 17-18 anni Che tornavano dal mare Per vedere Dragon Ball Ma tu a 18 anni Puoi tornare dal mare Chissà perché Non ci sono mai stati presi Da questo Ma poi c'è tipo Rapone Tinti No loro li impazziscono Non ci parla più Intenso fan Ma neanche fan È proprio Una sua passione Viera E ci sta Io a me Senza Stefano Luca Comics Vestito come Majin Bu Sono Majin Bu No no Proprio zero 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 Ma neanche la sua versione porno No 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 Sti cazzi Sì Ranma invece Ranma sì Amica Mega originosa Ranma Ranma forse Super Eh prima crash No io manco Ranma Ranma mezzo Sì Comunque era cosa Che maschio Era affascinantissima Come dire I giapponesi ce l'hanno Che c'è Eri un commercialista Di 65 anni C'è un maschio Posso dire Ranma è una donna al cubo Va bene Non è vero che non sono donne A parte che come ti coccolano loro Esatto Scusate Di cosa stiamo parlando A cambiare argomento Sono completamente sbagliato Io dicevo Lamu No Ranma Ah Lamu Ah Lamu Lamu Ma i Ghostbusters E i finti acchiappafantasmi Beh certo Ah è vero Scooby Doo Scooby Doo Quando sei piccolo Qualsiasi forma di immagine animata Ti attrae da morire Sì Poi quando sei grande Rimane solo rubicchio Sono a metro Però Che bello Rubicchio Vero cartone animato Dei nostri tempi Sai chi l'ha disegnato Senti tipo Una roba di Matt Groening Che ha fatto Che ha fatto con la mano sinistra Sì l'ha chiamato l'Atac Mi scrive Matt Groening No quando sei piccolo Vedi le immagini animate Devi scoprire Cosa c'è dietro Cosa si nasconde Poi ci sono cartoni Che io Diciamo Sono arrivati Che noi eravamo già grandicelli Tipo One Piece Sì One Piece Roba di cui Non si sa nulla Però percepisco Che quel mondo È veramente molto forte Tipo Spongebob Spongebob Io ho mai coperto Proprio Ma tu l'hai visto Guardato un po' Io lo guardo un po' Ma di che parla Spongebob? Lasciamo parlare loro Che non abbiamo idea Io sono appassionato Ho pure visto il film al cinema Quando uscì Però in Non era animazione Era tutto un lavoro Era di Gondry Tutto con le spugne Sott'acqua Com'era Com'è Spongebob? Di che parla? Lui è una spugna? Spongebob è strano Perché ha un po' Appunto Prende un po' Tipo di quella comicità Simpson-Griffin Però zero greve Ovviamente E c'è Sta spugna sotto al mare A me non mi ha mai preso Perché Quindi è sotto al mare? Sì Ma ragazzo è spugna Com'è finita sotto al mare? Per dire Perché è una spugna marina È una spugna Ah perché è una spugna marina Penso fosse una spugna Per lavare i piatti E Patrick è una stella marina Il suo amico Non so l'hanno buttata Capito è finita È una cosa sull'inquinamento No Ah ok C'è tutta la cittadina C'è Delle spugne Le spugne Le sfighe Cioè ci sono delle cose Sì un po' Un po' Simpson Però più Tu pensa questo Studente di questo campus L'antagonista È un triangolo di LSD Grande così Una sera Infatti l'antagonista È Plankton Ah ok Ma invece Edò questa è una bellissima idea Quella che ha avuto Per il classico cartone Sviluppato Prodotto dal ministero Delle politiche Qualcosa Una spugna Che cade in un mare È un oggetto È stato buttato Contro ovviamente Roba ambientali Così doppiata da chi In questo cartone italiano Che va prima dei film Prima del cinema Al cinema Cioè prima dei film Doppiata comunque Da Beppe Fiorello Sempre Lui doppia comunque Anche questo cartone animato E chi fa la parte Della femmina invece Dell'alga Dell'alga O della tartaruga Che si ritrova Il cotton fioc nel naso Indimenticabile Aiutami a ricordare il nome Alessandra Mastronardi Bravissimo Stavi pensando No non stavo pensando a lei Però ci sta Euro spesi 250.000 Sì Esatto Girato da un regista Che animazione Non ha fatto molta A 74 anni Però guarda che Credimi che ferruccio Ha una visione Lui fece nel 71 Quella cosa interessante Sempre con noi Bellissimo Quindi cade una spugna Nel mare Benissimo E affonda Da di parte questo racconto Non dovrei stare qua Io Dovrei essere sulla nave Della quale provengo Stavano lavando Dei piatti Sono stato Gettato in mare E Il mio è un cammino Molto lungo Pensate che il Mediterraneo Contiene più plastica Che la discarica Di Malagrotta Arriva una busta di plastica Doppiata da Alessandro Gassman Sei una busta Anche tu Io sono una busta E tu sei una spugna Sono una spugna E con tutto quello Che ho preso Con tutto quanto Quello che c'è dentro di me Se io potessi parlare Se io potessi raccontare Tutto quello che c'è dentro di me Oh ma vedo una tartaruga Sei diventato un napoletano All'improvviso Sì esatto Perché ci sta un problema Di bunniz La tartaruga La fa Quell'altro attore italiano Potrebbe fare L'anziana tartaruga Che sta morendo Piano piano Erlitzke Drusilla Feuer Esatto E quindi Abbiamo delle Spongebob Veramente mai coperto Mai saputo Per questo ci siamo inventati Ruvido Uno spot Del ministero Per le politiche Che è tipo Spongebob Però più bello A un certo punto Si cresce Cambia il mondo Cambiano le tecnologie Con cui fare i cartoni E entra a gamba tesa Nel settore La Pixar Con la sua simpatica Lampadina da tavolo Che si muove Che dice Signori Vi sono piaciuti Quelli della Disney Adesso invece ci siamo noi Però la Disney Comunque sai ricompra Quindi non gli da Tanta possibilità Però Quello è stato veramente Cambiato il mondo Dicevamo prima Due parole Abbiamo detto solo Sui tuoi storie Ma da quando sono arrivati loro Sono effettivamente Cambiati i cartoni animati Cioè hanno Toccando delle vette Che secondo me Sarà difficile raggiungere Di nuovo Con Wall-E E Inside Out Per quel che mi riguarda Che meraviglia Che meraviglia Ma anche Up Scusa Up Io non lo consiglio Perché è talmente Fuori quota Come cartoni È talmente più bello È un film drammatico Però Toy Story È proprio La minchia Da 40 cm Toy Story E beh anche perché Poi fu forse Il primo veramente Toy Story È stato il primo E hanno detto Sì certo Nel 95 penso E no Up Up è in arriva Ratatouille Quante cose Quanto è bello Vedere il backstage Come fanno Il making of Dei film Pixar Sembrano le persone Più felici del mondo Che lo fanno Chiedere a John Lasseter Che è stato cacciato Per molesti Però No poi scopri In cui backstage Ci sono otto persone Che lavorano per otto mesi Ad animare soltanto Come si muove La pinna di Nemo È altro Film straordinario Comunque È ancora Stiamo citando Ci piacciono in generale Mi sembra Film in cui c'è O una morte O una perdita O un momento di passaggio Rimangono Perché è la vita Luca Laverna Si parla di vita In quei cartoni animali La vita è anche morte Se tu me li poni Tutti i cartoni Tutti i film Non muore nessuno La lezione Di che è giusto Che la vita racconti bene Dove è l'alexio Dove è l'alexio Se no Tutto è una figata Tutti felici Però che palle Il cartone mi piace E poi recentemente La Pixar fa Tutti i cartoni In cui Si parla di nuovo Fanno in realtà Quello che facevano Già negli anni 30 Quindi parlano C'è incanto Che è Colombia Incanto è Colombia Coco Sì Coco e Messico Esatto Giustamente Si aprono a Nuove culture E Luca Coco è un capolavoro Totale Esatto Messico E invece c'è La minoranza Dei Liguri Che viene rappresentata In Luca Anche lì Quanto sarebbe stato Più bello Farlo più drammatico E chiamarlo Come si chiama Il figlio di Beppe Grillo Ciro 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 Questo film Sì ambientato Anche lì nella Rivia La Rigure Con un finale Una storia un po' Differente Ci rodiamo anche altre porte Diciamo Eh diciamo Che tutto può succedere Quando si tuffa sott'acqua Sparisce Non lo vedi più La magistratura Non lo trova più Non lo trova più È questo È chi lo sa È chi lo sa Che può succedere E sì E però è vero Anche che Wall-E Wall-E Che ha citato Wall-E Bellissimo Tristissimo La direzione Verso la quale Stiamo andando Infatti Non è nulla Che bellezza Molto bello A un certo punto Cambia il mondo Cambiano anche le tecnologie Con cui si fa un cartone Cambia il modo Di raccontare l'attualità Ed entra a gamba tesa Nelle nostre vite South Park Esattamente Che cambia il modo Anche di fare satira E da comici Anche un po' Di pensare A come si raccontano A come si raccontano Tante cose E noi qui Abbiamo concluso Ci salutiamo Ma non abbiamo finito Di parlare di South Park Noi dedichiamo Una puntata speciale Di Kashmir a South Park Potrete vederla Sul canale YouTube Di Comedy Central Abbiamo messo anche Il link in descrizione Grazie Tair E per ora Ci salutiamo qui Ci rivediamo La prossima settimana Con una nuova puntata Di Kashmir Ciao Tair Ciao Ciao Cecilia Ciao 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 Grazie a tutti